La decisione era nell'aria dopo la debacle senza attenuanti di sabato contro il Monopoli. Bruno Tedino non è più l'allenatore del Teramo. Alla sua posto il responsabile del settore giovanile bianco-rosso c'è Teo Di Mascio. Già nell'immediato post-gara di sabato le sorti di Tedino erano appese ad un filo. Ieri dopo una riunione dello Stato Maggiore Bianco-Rosso, il presidente Iachini, il GM Iaconi e il DS Federico, la decisione è maturata in via definitiva. Un ribaltone che sarebbe arrivato anche nelle settimane precedenti se la squadra a gennaio non avesse infilato una serie di risultati positivi che avevano ridato forza all'ex allenatore di Pordenone e Palermo. Per la successione ha poi prevalso la linea interna e quindi c'è Teo Di Mascio, anche se la società aveva vagliato l'ipotesi Leonardo Colucci che dalla sua parte aveva il fatto di aver allenato nel recente passato, quando era a Pordenone, diversi calciatori ora in forza al Teramo. Colucci però ha declinato per nulla convinto di vestire i panni del traghettatore con un contratto fino al prossimo 30 giugno. Una scelta precisa dunque è quella della società, portare a termine la stagione e poi ripartire senza ulteriori vincoli il prossimo anno con un nuovo tecnico avendo peraltro ancora libro paga Tedino, almeno fino alla prossima estate quando lo stesso potrebbe risolvere il contratto se troverà un'altra squadra o a meno che, previo accordo economico, la risoluzione non avvenga nelle prossime settimane. Certo fa specie che come dopo una importante campagna acquisti estiva con il tecnico e i giocatori altisonanti per la categoria per disputare una stagione ambiziosa, prima il mercato di gennaio abbia svuotato il reparto d'attacco ed ora ci sia contenti di una scelta interna. Dimascio dal canto suo ha due brevi esperienze da allenatore di prima squadra sempre nel Pescara in Serie B, nel 98 ad Interim per una partita vinta con l'Atalanta dopo l'esonero di Giorgini e prima dell'avvento di Decagno. E' nel 2004 quando, da tecnico della primavera, fu promosso in prima squadra al posto di Ivo Iaconi per le ultime quattro giornate. Una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Quattro punti che non hanno evitato la retrocessione a quel Pescara poi ripescato nel corso dell'estate. Dimascio dirigerà domani il primo allenamento e debutterà sabato pomeriggio ore 15 nella trasferta di Rieti.